Fin dall'antichità le regine come Cleopatra usavano fare bagni nel latte perché rendeva la pelle morbidissima e combatteva l'invecchiamento. Oggi il nostro aspetto ci propone una maschera che contiene tre elementi fondamentali, elementi che ci aiuteranno ad ottenere una maschera antirughe, una maschera nutriente che promuove il collagene è una maschera soprattutto ad effetto lifting. Ragazzi provatela perché è davvero buonissima, è una vera e propria maschera mangiarughe. Come prima cosa dovete preparare il siero di latte. Vi serviranno 200 ml di latte, preferibilmente latte intero. Dovete utilizzare una fiamma medio-bassa. Quando il latte arriva quasi ad ebollizione unite poco alla volta il succo di mezzo limone, mescolando in continuazione, preferibilmente con un cucchiaio di legno e vedrete che la caseina comincerà a separarsi dal siero. Una volta che avete ottenuto il siero di latte, come vedete è questo il nostro siero di latte, dovete filtrare il tutto con un colino. Vi ricordo che il siero di latte promuove la produzione di collagene, quindi è fondamentale per una maschera antirughe. Una volta che avete ottenuto il siero di latte, vi servirà il miele della stessa quantità del vostro latte, quindi circa 200 ml. Il miele mantiene la pelle giovane ed elastica, contiene acido gluconico che rimuove le cellule morte, quindi è fondamentale. Amalgamate il siero di latte con il miele. Una volta che avete amalgamato bene il tutto, la vostra maschera è quasi pronta. Ragazzi, questa maschera contiene tre elementi fondamentali. È facilissima da realizzare, ma credetemi, l'effetto è assicurato, è una maschera davvero miracolosa. E poi si sa, gli antichi non sbagliavano mai. Vi serviranno dei contenitori sterilizzati. Versate la vostra maschera all'interno, io ho utilizzato due contenitori, e poi vi serviranno anche qualche goccia di olio d'argan. Quindi una volta che avete versato la maschera all'interno, proprio mettete qualche goccia di olio d'argan all'interno e amalgamate bene il tutto con un cucchiaio. L'olio d'argan è un ottimo antirughe. Dovete conservare la vostra maschera in frigo, si mantiene benissimo per 10 giorni. La maschera va applicata la sera, dovete massaggiare abbondantemente la maschera sul viso, e mi raccomando. È una maschera piuttosto liquida, non è una maschera coprente, e quindi è una maschera trasparente. La massaggiate benissimo per far assorbire tutti i nutrienti alla nostra pelle. Quindi, maschera abbondante sul nostro viso, massaggiate benissimo, questo è fondamentale. Tenete in posa la vostra maschera sul viso per almeno un'ora, e poi risciacquate con abbondante acqua. Ragazzi, otterrete davvero dei risultati incredibili. Provatela e fatemi sapere. Se volete, potete seguire i rimedi naturali del nostro aspetto Semplice e Naturale, sulla sua pagina Facebook Semplice e Naturale, oppure sul mio canale YouTube, troverete una playlist con tutti i video del nostro esperto Semplice e Naturale. Mi raccomando, visitate la playlist, perché ci sono anche tantissime novità in arrivo. Mi raccomando, provate questa maschera e lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, un bacio da Cartesia!